Con il dottor Ciro Di Gennaro una giornata importantissima questa del 3 giugno perché viene chiuso il reparto Covid all'ospedale Anna Rizzoli. Sì, oggi abbiamo dimesso l'ultima nostra ospite. Si trattava di una delle più anziane ospite di Villa Mercedes, di 95 anni quasi, che avendo avuto il doppio tampone negativo ed essendo guarita dal Covid poteva raggiungere di nuovo il suo domicilio attuale che è proprio Villa Mercedes. Con la sua dimissione non abbiamo più pazienti Covid in medicina, abbiamo deciso di chiudere il reparto di medicina Covid pur riservando un percorso Covid di emergenza in ambito del pronto soccorso con una stanza di contumacia a due posti per un'eventuale urgenza. Abbiamo visto entrando anche un dispositivo per il rilevamento della temperatura corporea a testimonianza del fatto che sebbene il reparto sia stato in questo momento svuotato, metaforicamente chiuso, l'emergenza non può essere dimenticata tanto facilmente. In altri termini noi riteniamo che è opportuno rientrare in un ambito di normalità, ma chiaramente mantenendo la guardia sempre alta. E ci atteniamo anche alle indicazioni regionali e ministeriali. In particolare quello che lei ha visto è un termoscanner montato all'ingresso perché noi abbiamo ottenuto separati due percorsi, quelli del percorso ambulatoriale e il percorso dei pazienti ricoverati. Il percorso ambulatoriale è fatto per pazienti che vengono dal proprio domicilio e che andranno a fare le visite ambulatoriali, adesso per questo mese, ancora solo quelli urgenti o comunque di una certa rilevanza, rimandando le visite ambulatoriali di minore importanza o di minore urgenza successivamente. Però i pazienti che provengono dal domicilio vanno ottenuti completamente separati da quelli ricoverati per ovvi motivi. Per cui faranno il loro controllo al termoscanner, poi hanno anche un questionario che viene verificato da un infermiere in modo che individuiamo i pazienti potenzialmente a rischio per escluderli dal percorso interno. Questo percorso è separato invece, come dicevo, da quelli dei ricoverati che seguono il loro percorso in pronto soccorso. In pronto soccorso abbiamo modificato, anche là c'è sempre un doppio percorso, covid free e covid o almeno sospetto covid. Però visto che, ringraziando Dio, abbiamo una ridottissima fascia di questo tipo di pazienti, chiaramente manteniamo la tenda, manteniamo il percorso, manteniamo una situazione di emergenziale con una stanza contumaciale, ma permettiamo anche l'ingresso ai pazienti con patologia non covid, che ormai sono la maggioranza e saranno ancora di più la maggioranza adesso che andiamo incontro all'estate con l'arrivo anche dei turisti. Ovviamente dobbiamo mantenere un percorso covid, però per gli ovvi turisti che vengono anche da zone di maggiore rischio e che impongono di mantenere alta la guardia. Immagino che vi aspettiate un'estate intensa dal punto di vista del lavoro, un'estate nella quale bisognerà farsi necessariamente trovare pronti ad ogni evenienza. Assolutamente. L'estate per noi è sempre stato un periodo di massimo lavoro, per ovvi motivi. Siamo in un'isola che vive di turismo, quindi per noi l'estate è chiaramente un aumento di lavoro. Quest'anno all'aumento di lavoro, inteso come numero di utenti che arrivano in pronto soccorso ed eventualmente arrivano poi nei reparti per ricoverati, si aggiunge questa particolare attenzione per pazienti potenzialmente a rischio e per situazioni potenzialmente a rischio. Quindi, come dicevo, non abbiamo abbassato la guardia per niente, abbiamo aumentato la recettività del pronto soccorso con un percorso differenziato per i covid, perché sappiamo che in questo periodo arriveranno sempre i più pazienti con patologie covid free. Però anche quello del covid è comunque mantenuto. Quindi diciamo che abbiamo cercato di innestare sul rizzoli degli anni scorsi un neorizzoli che possa permettere l'eventuale emergenza, qualora malauguratamente questo si presentasse. I numeri che ha dovuto affrontare questo ospedale, che ha dovuto affrontare quest'isola, sono i numeri che in buona sostanza vi aspettavate o è andata meglio o peggio? In questo giorno in cui viene chiuso il reparto probabilmente si può anche provare a fare un piccolo bilancio su come sia effettivamente andata. Noi abbiamo seguito da ricoverati in medicina covid sui 25 pazienti e altri 4-5 sono stati seguiti purtroppo in rianimazione, dico purtroppo perché chiaramente erano in situazioni di intensività. Nonostante questo possiamo dire che abbiamo affrontato e superato questa onda, perché poi abbiamo seguito anche pazienti in domiciliare. Lei sa che noi abbiamo fatto un percorso di assistenza domiciliare con un'ambulanza e con medici interni all'ospedale che andavano direttamente a casa dei pazienti che erano a domicilio perché in contumacia volontaria. Diciamo che abbiamo affrontato bene la situazione, abbiamo ottenuto dei risultati che sono in linea con i risultati nazionali, chiaramente tenendo conto del fatto che il nostro bacino di utenza era fatto a 60.000 abitanti e non da un milione come poteva essere una grande città. D'altro canto però anche le forze a disposizione erano ovviamente proporzionalmente minori. Abbiamo affrontato bene non solo ma abbiamo avuto anche degli ottimi risultati utilizzando tutti i protocolli utilizzati anche sul continente. Abbiamo fatto la terapia con la seroterapia con gli anticorpi, abbiamo fatto la terapia con gli anticorpi non colonali, l'eculizumab, il tocilizumab, quindi voglio dire accanto alle terapie stand. Quindi possiamo dire di aver avuto una performance che, mutatis, mutatis, tenendo conto delle proporzioni, è quella degli ospedali continentali. Siamo stati in qualche modo in linea con quello che ci si aspettava da un ospedale che viene un po' considerato una frontiera, come capita ai ospedali che insistono su zone con una forte presenza turistica in alcuni mesi dell'anno. Le dovessi chiedere qual è stata la fase più difficile, più dura che ha affrontato in questi mesi? Qual è stata? Sicuramente a fianco al metà di marzo, che è stata una fase veramente seria in termini di affluenza di utenti con patologia Covid, c'è stato poi il grosso problema della Villa Mercede, che abbiamo affrontato praticamente noi, con il ricovero, il trasferimento della Villa Mercede a noi di pazienti che avevano delle complicanze in atto, o il seguire noi stessi Villa Mercede periodicamente. Quindi da questo punto di vista io debbo un grossissimo ringraziamento a tutti i miei collaboratori, dal comparto, gli infermieri, gli os e i colleghi medici, che non si sono risparmiati per niente durante questa perioda, sono sempre stati qua a seguire i pazienti e a cercare di trovare una soluzione, spesso anche evitando completamente ferie, evitando qualsiasi altra assenza, essendo sempre presenti. E poi devo dire anche un'altra cosa che mi andava veramente di sottolinare, la vicinanza del popolo ischitano. Siamo stati veramente moltissimi, ci hanno inviato messaggi, ci hanno inviato il loro calore, il loro affetto, che in questi casi serve tantissimo. Hanno partecipato attivamente, dando anche molti in termini materiali all'ospedale. Ci sono arrivati fondi per DPI, per altre donazioni importanti, ne ho già parlato più volte, abbiamo avuto anche strumentazioni in donazione. Quindi, accanto a quella che era la normale ricarica dei DPI che veniva fatta attraverso la nostra azienda, gli schitanici sono stati molto vicini. Questa è stata una cosa assolutamente carina. Anche, voglio dire, manifestazioni di affetto più semplici. Ho raccontato qualche volta delle mascherine che sono arrivate da bambini nelle scuole elementari, accompagnate da letterine molto simpatiche che ci venivano mandati dall'Associazione dei Volontari, insomma, manifestazioni di affetto sincero che ci hanno sicuramente fatto piacere.